ciao ragazzi e bentornati sul mio canale io sono il lanciere ed oggi ritorniamo con un nuovo video dedicato alla raccolta top class abbiamo ancora un paio di multi pack da andarci ad aprire insieme quattro pacchetti e 4 olo giants a 9 euro e 95 vediamo un po che cosa riusciamo a trovare prima di iniziare a spacchettare però io vi ricordo come sempre l'iscrizione al canale se ancora non avete fatto di attivare la campanella e soprattutto schiacciare un bel like a questo video e allora eccoci qua con i nostri multi pack versione nord europa versione netherland germania paesi bassi insomma e ce lo andiamo ad aprire subito ed eccoci qui con il primo dei due multi pack che andremo ad aprire insieme pacchettino numero uno vi ricordo ogni pacchetto costa due euro e contiene ben otto carte in questo caso a 10 euro abbiamo i quattro pacchetti e ben quattro carte limited edition olo giants oiar zaballa la prima carta di questo pack continuiamo con la master class di alaba molto bella chiesa e donnarumma magic mix araugio max power vinicius e alaba anche qui magic mix e terminiamo con uea zin 5 e zaniolo pacchettino numero due vediamo un po qui che cosa riusciamo a trovare abbiamo kyley walker poi la master class di ammels rainbow master di mbappé molto bene scamax ma max power electric di saca luke show arnautovic e la porto per le carte base ancora terzo pacchetto abbiamo christensen per il barcellona la ambita ball di henry kane eccola qui versione base poi courtois winner la solita electric di kin che non vedevo da un po kai avers poi phil foden la mini yamala e gundogan ultimo pacchetto per il nostro primo multi pack ma vi sto sfondando per bene qui dietro troppa colla troppa colla in questi pack abbiamo guardi all new sensation abbiamo visto due tre volte attenzione carta unbeat ball di vinicius jr in versione blu questa è una gran bella carta questa è veramente una gran bella carta una variazione di colore quindi una particolarità la mettiamo sicuramente in collezione magic mix intanto philips e bellingham max power di turam e magic mix di martinelli e bucaio saca qui per le carte base abbiamo berardi modric e mike magnan e a questo punto abbiamo un bel pacchettino in versione hollow giants ce ne sono ben 4 vedo qualcosa di interessante perché mi manca abbiamo subito upamecano per la francia prima delle nostre carte la mettiamo qui in vista poi musiala questa è doppia continuiamo con dembele questa non mi ricordo onestamente se ce l'ho o meno e poi abbiamo robertone levandoschi per il barcellona a terminare le prime quattro hollow giants intanto ci andiamo ad aprire il secondo multi pack primo pacchetto ragazzi devo trovare assolutamente la hollow giants di killian bappé ancora non l'ho trovata penso che me ne mancheranno ancora una decina ne avrò aperte almeno 30 40 ma me ne mancano ancora 10 oi arzabal new sensation di frattesi max power di mckenny doppia frattesi electric phillips e bellingham magic mix doppia modric magnan ancora una volta foden e purtroppo stiamo trovando tante tante carte doppie ma abbiamo aperto anche una marea di pack una marea di pack di questa raccolta christensen l'abbiamo già vista unbeatable di pedri molto bene mettiamo via electric di aronson giro carta winner poi la rainbow master di tell ea terminare paredes the clan rice e berardi carte base penultimo pack prima di terminare questo video no vabbè poi ci sono le olo giants kyle walker carta base giorginio master class attenzione pure football top class la numero 266 anche questa è una carta doppia ma la mettiamo via winner di gundogan per le speciali electric di enrix e poi enderson martinez e l'enormand ultimo pacchettino l'abbiamo già praticamente aperto abbiamo vediamo un po immobile per le base udoji new sensation questa mi manca la carta winner di rodri questa ne avrò 10 rabbio julian alvarez poi mendi danny olmo e docum a terminare i nostri pacchetti base e a questo punto abbiamo quattro olo giants andare a scoprire insieme la prima la vediamo qui è delict che è anche una carta doppia vediamo un po non la voglio vedere l'ultima vediamo la vedremo insieme e allora iniziamo con matthias delitt per il bayern abbiamo florian wirz anche questa carta doppia poi abbiamo hernandez lucas hernandez per la francia e a terminare uu bella barella nicolino barella per l'italia e questa è una carta che mi manca e allora alla fine del video questo è il mio bottino trovato ben otto carte olo giants eccole qui tutte quante o due tre di queste per fortuna mi mancano e poi per le carte un po più particolari abbiamo le due ambito ball base di pedri e henry kane l'ambito ball in versione coloration variant blu di vinicius jr e abbiamo trovato anche la top class pool football questa è veramente la carta copertina è molto molto bella tante le carte base tante le carte speciali a terminare il nostro video e allora anche per oggi termina qui il nostro appuntamento io vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale se ancora non avete fatto di attivare la campanella e soprattutto schiacciare un bel like a questo video e quindi con top class 2024 da lanciere tutto ci vediamo un prossimo video ciao